Tutelare più efficacemente la sicurezza dei cittadini e le forze dell'ordine è l'obiettivo del Taser. Il nuovo dispositivo da oggi in dotazione anche ai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. Si tratta di una pistola a impulsi elettrici classificata come arma propria. Il dispositivo è in grado di emettere scosse elettriche tramite la proiezione di una coppia di dardi, provocando nel soggetto colpito una contrazione involontaria dei muscoli che ne inibisce momentaneamente le funzioni motorie. L'arma integra e non sostituisce, come ha spiegato il tenente Maglio Malaspina, gli strumenti già in dotazione alle forze dell'ordine che hanno frequentato uno specifico percorso di formazione tecnico-giuridica, teorica e pratica per il corretto utilizzo del nuovo dispositivo. Sì, è una doppia arma perché nel nostro servizio quotidiano affrontiamo sempre ogni minaccia con il concetto dell'escalation of force, nel senso che dobbiamo cercare di adattare il nostro utilizzo della violenza alla violenza che esprime la nostra minaccia. Quindi il taser verrà utilizzato in tutti i casi in cui il soggetto che ci troviamo di fronte ha dei comportamenti violenti che però non giustificano l'utilizzo delle armi letali. Questo per la sicurezza dei soggetti coinvolti e anche degli operatori. Puoi spiegarci come funziona questo nuovo dispositivo da oggi in dotazione anche ai carabinieri? Si tratta di una pistola di impulsi elettrici che serve per immobilizzare un individuo senza l'utilizzo della forza letale in tutte le occasioni in cui non si può affrontare un individuo o una minaccia violenta con le mani nude. C'è il rischio, c'è il pericolo per chi subisce questo tipo di arma? No, l'arma è stata ingegnerizzata in maniera tale da arrecare il minimo danno possibile a tutti i soggetti contro cui viene utilizzata, inclusi i soggetti eventualmente cardiopatici.